Non c'è condominio purtroppo senza problemi. Il vostro cliente è un servizio abbastanza utile agli utenti? Direi di sì. Oggi, o perché abitiamo in uno stabile dove siamo condomini, o perché abbiamo un'attività commerciale o anche un nostro studio, siamo condomini. Quindi AMI si è come obiettivo predisposta, e ringrazio tantissimo anche il Presidente Francesco Picarella che ha creduto in questo nostro progetto, di informare le persone, perché penso che questi problemi nascano anche per la poca informazione. Questo sportello, quindi, oltre a dare consulenza in tematica condominale a 360 gradi, sarà anche un posto dove la gente potrà venire, potrà avere tutti i chiarimenti possibili e immaginabili. E poi da settembre stiamo programmando anche delle giornate tematiche, che saranno aperte anche alla cittadinanza, perché l'informazione penso che sia la cosa principale per evitare anche questi problemi che purtroppo affliggono ormai ciascuno di noi all'interno delle nostre abitazioni. Quando partirà il servizio? Allora, oggi è la prima giornata che è partita il servizio, devo dire che abbiamo avuto circa otto visitatori, quindi come prima giornata siamo abbastanza soddisfatti. È un servizio che piace tantissimo, infatti anche sui social abbiamo avuto molti consensi e andiamo avanti perché crediamo fermamente che sarà un servizio utile per la cittadinanza. Quindi ogni mercoledì dalle 10 a mezzogiorno saremo qui presso la Conficommercio, unitamente ad altri professionisti che fanno parte anche dell'associazione, così la consulenza non sarà solo dalla parte tecnica, ma anche avremo l'ingegnere, avremo l'avvocato, avremo il geometra, quindi potremmo dare veramente una consulenza a 360 gradi. Ed è una consulenza gratuita? Gratuita, lo preciso, gratuita per la cittadinanza. Ci sono rapporti di vicinato anche nelle aziende, tra le aziende, tra i commercianti, ecco da qui il coinvolgimento della Conficommercio. Certamente, le aziende, soprattutto nei centri storici, vivono dei rapporti di vicinato e vivono dei rapporti anche in condomini, quindi il fatto di aver scelto questa collaborazione insieme alla dottoressa Miceli con AMI è una delle prerogative della nostra associazione. Provare a dare quelle informazioni ai commercianti, ai professionisti, nostri associati, ma anche non associati, le porte della Conficommercio sono aperte a tutti, serve proprio per dare quelle nozioni sulle leggi e sui comportamenti da poter tenere appunto nei condomini. Per questo abbiamo dato la nostra disponibilità di questi locali, proprio per essere ancora maggiormente a servizio delle imprese e dei cittadini.